Domani lunedì 31 gennaio vengono meno alcuni obblighi, tra cui quello di indossare le mascherine all'aperto, misura adottata per contenere l'ondata di contagi provocata dalla variante Omicron. Tuttavia una proroga potrebbe essere nell'aria, tanto che l'argomento sarà all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, dove verrà valutata anche la questione delle regole in merito alla quarantena nelle scuole. Ma sono diverse le scadenze previste per la settimana ormai alle porte. Da martedì infatti, in assenza di proroga, potrebbero tornare a riaprire le sale da ballo e si potrà tornare a organizzare feste e concerti in piazza. Le limitazioni erano scattate a ridosso dei festeggiamenti di Capodanno, per il timore che parti e beglioni avrebbero potuto innescare una raffica di contagi. Anche in questo caso, come per le mascherine, non è improbabile che il governo proroghi i provvedimenti ancora per un paio di mesi. Sul fronte della scuola, invece, la semplificazione è chiesta a gran voce da dirigenti e presidenti delle regioni e sostenuta dal governo è già partita con le misure inserite nel decreto bollente. Da sabato infatti, chi ha il Super Green Pass può rientrare dall'autosarpeglianza senza dover fare il tampone, mentre i test saranno gratuiti anche agli elementari con le famiglie che potranno rivolgersi ai pediatri. Fasce di colore. Qui i dubbi si infettiscono attualmente. Chi ha il Super Green Pass avrà accesso ad ogni attività in tutte le zone, tranne che in quella russa. Ma resta aperta la discussione su cosa sarà invece possibile fare in quest'ultima.